Ciao, sono la dottoressa Elena e oggi ti voglio parlare di un argomento molto importante. Lo sai che sei fatto di 30.000 miliardi di cellule, ma anche di 39.000 miliardi di batteri? Cioè nel tuo corpo ci sono più batteri che cellule. Sì, perché i batteri non sono solamente nocivi, ma esistono moltissimi, anzi la maggior parte dei batteri presenti nel nostro corpo sono batteri amici delle cellule, che convivono in pace con esse, ma soprattutto le aiutano nelle loro funzioni fisiologiche. Ti basti pensare alla flora batterica intestinale. Pensa che nella flora batterica intestinale ci sono il 70% delle nostre difese immunitarie. Sono proprio i batteri che ci proteggono dagli attacchi esterni di altri batteri. E' proprio per questo che quando il nostro organismo ha una flora batterica alterata, vuoi perché viene distrutta dall'assunzione di farmaci, vuoi perché si ha un'alimentazione squilibrata e oggi come oggi l'abbiamo un po' tutti perché i valori nutrizionali del cibo non sono più quelli di una volta. Vuoi anche l'invecchiamento che crea una lassità delle cellule intestinali, delle giunzioni intestinali e quindi non c'è più un intestino impermeabile e questo può provocare anche un'alterazione della flora batterica. Quando quindi la flora batterica del nostro intestino non è più quella che dovrebbe essere, succede che siamo più deboli e siamo anche più suscettibili a delle infezioni. Ma non solo la flora batterica intestinale è importante, ma è importante tutta la flora batterica del nostro organismo. I ricercatori stanno molto studiando i batteri, questo perché hanno visto che selezionando determinati cepi batterici e somministrandoli al malato, il malato migliorava le sue condizioni di salute e oltretutto vengono utilizzati proprio come coadiuvanti di cure in tantissime patologie perché migliorano l'efficacia delle cure stesse. In questa serie di video io ti voglio parlare patologia per patologia di quali sono i vari ceppi batterici che vengono utilizzati per la cura di queste patologie e quindi li puoi utilizzare anche tu. Seguimi nei video, ciao!